Carlo Goldoni è uno degli autori italiani che meglio rappresentano i caratteri specifici del 1700 dell'illuminismo, questo sia dal punto di vista della sua vita vissuta non soltanto nella città natale a Venezia dove nasce appunto nel 1707 ma anche in altre città dove per motivi di studio, studia legge, frequenta legge ma anche per motivi di vita mondana sono memorabili le promesse di matrimonio da lui stesso fatte a diverse donne dalle quali poi è costretta a fuggire sia per motivi di lavoro perché sin da giovane mette mano alla scrittura in maniera particolare di opere teatrali per le quali quasi subito sente quasi un'inclinazione naturale dal punto di vista artistico la sua formazione è proprio di tipo teatrale, cresce in ambienti che lo vedono non soltanto interessato alla scrittura ma anche al lavoro di riforma di cui egli stesso sente necessità come scrittore di opere teatrali e proprio per questo motivo gran parte della sua produzione, soprattutto quella iniziale, la possiamo ritenere quasi foriera di novità capace cioè di intuire le novità di cui il teatro stesso ha bisogno e contemporaneamente attraverso la sperimentazione dei caratteri delle maschere lo stesso Goldoni riesce in qualche modo a dare forma a questa necessità di trasformazione soprattutto del teatro si sperimenta sin da subito in diverse occasioni nella sua veste di scrittore sia a Venezia sia poi in Toscana dove si trasferisce per motivi di lavoro dove in Toscana svolgerà la professione di avvocato dopo essersi laureato in legge e qui nel frattempo appunto diventa anche autore di teatro all'interno di alcuni teatri toscani Venezia rimane comunque al centro della sua produzione perché proprio per il teatro di Venezia scrive diverse opere che vengono messe in scena con una capace interpretate e si tratta di un numero anche copioso significativo di opere teatrali che poi pian piano vedono la trasformazione e la crescita dello stesso Goldoni con il massimo della sua fama che raggiunge con la locandiera una delle opere più importanti che già lo vedono appunto autore nel 1752 si mette in proprio diventando impresario del teatro di San Luca l'anno successivo ed è qui che non si limita soltanto alla rappresentazione delle sue opere ma anche alla sperimentazione di nuove modalità di ambientazione ricordiamo che siamo nel 1700 i paesaggi esotici fanno la loro comparsa all'interno delle opere di narrativa ma anche all'interno delle opere teatrali perché sono iniziate anche i viaggi nei paesi esotici grazie alle nuove vie del turismo che nel 1700 si sviluppano queste ambientazioni danno già novità all'interno della rappresentazione teatrale ma Goldoni si concentra anche sullo studio dei personaggi in particolare quelli di tipo femminile dei quali studia le caratteristiche specifiche ma anche personaggi che derivano dal popolo tanto che lo stesso Goldoni utilizza in molte delle sue rappresentazioni proprio per avvicinarsi all'ambiente popolare il dialetto veneziano come per esempio nelle opere di questo periodo successivamente vive anche all'estero e in particolar modo in ambienti francesi a Versailles in particolare dove nel 1765 si trasferisce per assumere l'incarico di maestro di italiano il rapporto con il pubblico francese è bellissimo per Goldoni che riceve tra Parigi e Versailles tantissimi complimenti tanto da diventare una celebrità per quel pubblico lì ma succede qualcosa succede cioè che lo stesso Goldoni è costretto in qualche maniera a cedere alle lusinghe di questo pubblico del pubblico francese che è abituato alla commedia dell'arte e proprio per assecondare questo gusto francese decide di scrivere una serie di rappresentazioni teatrali sempre in lingua francese nei quali mantiene le caratteristiche specifiche della commedia dell'arte quindi la mancanza di un copione l'utilizzo dei canovacci in lingua francese è il personaggio comico e anche un po' malinconico di Arlecchino che è la figura burlesca propria delle sue opere di questo periodo ma sicuramente non è assolutamente persa in lui la necessità di sviluppare una riforma cosa che aveva già fatto prima attraverso lo studio dei personaggi lo studio anche della scrittura di opere teatrali in cui si superassero i limiti della commedia dell'arte e proprio per questo nonostante appunto questo aver ceduto agli gusti del pubblico Carlo Goldoni va ricordato sicuramente per questa importantissima trasformazione che dedicherà al teatro la sua è tutta una vita dedicata al teatro ma nelle diverse fasi della sua prolificissima produzione di opere teatrali possiamo vedere come man mano lo stesso Goldoni trasforma la sua scrittura passando da quella che era una commedia dell'arte ormai diventata banale diventata anche volgare perché abituata ad assecondare le richieste del pubblico e quindi a lasciarsi andare anche a utilizzo per esempio di un linguaggio volgare di una volgarità nella rappresentazione stessa dicevo Goldoni invece nonostante queste rusinghe che vengono dal pubblico riesce anche ad elaborare una riforma quella che passa dalla storia proprio come la riforma golduniana per fare questo Goldoni supera i limiti di una commedia dell'arte che già nella seconda metà del XVI secolo in Italia aveva dato era nata e aveva dato il meglio di sé perché la commedia dell'arte rappresentata nelle strade nelle piazze italiane era diventata proprio uno stile una modalità di espressione gli attori lo facevano nella commedia dell'arte lo facevano di mestiere cioè avevano anche le donne questa capacità di recitare utilizzando un canovaccio cioè un testo non scritto ma per sommi capi dato in mano al capocomino capocomico il quale però riusciva ad improvvisare le battute e a relazionarsi con gli altri attori attraverso proprio l'improvvisazione quello che era successo è che ad un iniziale successo della commedia dell'arte era seguita una ripetitività nei copioni che si lasciavano andare appunto ad un'improvvisazione che non era più tale perché di sera in sera si tendeva a ricalcare sempre le stesse battute i tipi che venivano che gli attori rappresentavano diventavano sempre di più delle maschere con caratteristiche fisse e quindi avevamo il giovane la donna la serva il vecchio e anche in questo caso cominciarono a diventare delle maschere rigide senza una caratterizzazione particolare insomma è come se la commedia dell'arte nel tempo avesse perso quella verbo quella forza che l'aveva fatta appunto una commedia di diffusione popolare la riforma goldeniana si basa su alcune necessità intanto il passaggio dal dialetto all'uso dell'italiano per questo motivo l'uso dell'italiano parlato sino ad allora che aveva in qualche maniera le caratteristiche diverse di città in città è soltanto in alcuna delle sue opere l'uso del dialetto veneziano i personaggi questa volta non sono più rappresentati come delle maschere fisse ma al contrario assumono sì una caratterizzazione specifica propria però attraverso una evoluzione del personaggio stesso che da un punto di vista psicologico passa da una situazione iniziale ad una situazione di evoluzione durante la rappresentazione stessa fino alla trasformazione del personaggio cosa che avviene all'interno dell'opera stessa quindi il personaggio parte in un modo e psicologicamente ha una sua evoluzione che lo porta a diventare altro all'interno delle opere teatrali ci sono vengono inserite delle finalità di tipo morale di tipo etico che non abdicano cioè non cedono alla tentazione di non inserire anche parti comiche parti spiritose anche a volte al limite della della possibile del fraintendimento della della presa in giro che però viene fatta per caratterizzare i tipi stessi che la mettono in atto per esempio i personaggi femminili con la loro capacità di fare innamorare gli uomini sono proprio utilizzati a questo scopo i personaggi minori hanno le parti scritte alla stessa maniera di tutti gli altri e di volta in volta all'interno delle diverse opere gli intrecci che si sviluppano non sono sempre gli stessi come invece era capitato con la commedia dell'arte ma si trasformano cambiano a seconda dell'opera stessa quindi sostanzialmente quella di Goldoni è una vera e propria riforma in cui le caratteristiche specifiche della commedia dell'arte che l'avevano fatta una grande un grande momento anche del teatro italiano ma che poi erano diventate ripetitive ridicole volgari e che quindi avevano perso avevano fatto perdere al teatro stesso la sua funzione irrigidendosi al loro interno adesso vengono superate attraverso questa riforma che già Goldoni mette in atto all'interno delle sue stesse opere in queste opere partiamo questo è sempre lo schema ripetuto da una situazione iniziale alla quale succede una contrapposizione soprattutto tra diversi personaggi che rappresentano anche istanze diverse che provengono dalla vita sociale e dall'esplosione di questo conflitto pieno di elementi anche comici la commedia è proprio per questo chiamata così fino ad arrivare appunto ad un'evoluzione finale che riporta alla soluzione del conflitto e quindi allo sviluppo di un punto di equilibrio che risolve la situazione i temi che vengono trattati nelle sue opere sono quelli del rapporto vecchio-giovani vecchi-giovani del rapporto uomo-donna del rapporto tra appunto le persone il superamento della vacuità delle convenzioni sociali la borghesia nera intrisa per arrivare invece all'autenticità delle relazioni stesse con l'inserimento anche di una morale all'interno di queste stesse opere la trasformazione sarà graduale non subito avverrà anche perché appunto Goldoni cercherà di non tradire i cussi del pubblico e in questo senso il suo diventerà un teatro che avrà espressione massima in alcune delle sue opere più importanti come per esempio la locandiera grazie 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 a tutti